Come si conduce una prima seduta con pazienti con disturbi alimentari? Negli ultimi video mi sono molto dedicato a vedere come tramite la terapia breve centrata sulla soluzione si possono affrontare diverse modalità di interazione di pazienti con disturbi alimentari. Infatti, secondo una concezione delle terapie brevi, noi non andiamo a pensare semplicemente al disturbo in sé e questa in realtà dovrebbe essere una realtà di tutte le psicoterapie che tutti gli psicoterapeuti tengono in mente. Significa, in altre parole, che non esiste l'anoressica, non esiste neanche l'anoressia, ma esistono delle concettualizzazioni che poi vanno calzate e viste sulla unicità della persona che hai di fronte. Per quanto scontato, questa realtà non è così scontata e troppo spesso ci troviamo a trattare il disturbo, la diagnosi, piuttosto che aiutare la persona. Nei precedenti video allora mostravo come un'utile strategia per capire chi abbiamo di fronte è quella di andare a considerare in che stadio del cambiamento si trova, in modo tale anche da capire che tipo di interazione viene a costruirsi all'interno della terapia. Questo è anche fondamentale perché quando noi concettualizziamo una persona che abbiamo di fronte come avente un disturbo alimentare, dobbiamo star considerando che lo ha lì dentro nella nostra seduta di psicoterapia in un modo diverso da come lo ha lì fuori. O meglio, dovremmo considerare che la concettualizzazione che stiamo considerando nel contesto terapia è diversa da quella che è lì fuori, perché nel contesto terapia ci sono due persone che hanno uno scopo ben preciso, diverso dallo scopo di quella persona nella sua vita di tutti i giorni. Dopo questa nota epistemologica andiamo però a vedere come lavorare in prima seduta con una paziente che ha questo tipo di problemi. Infatti abbiamo detto delle linee guida generali relative appunto alla fase del cambiamento in cui si trova nei precedenti video, però adesso andiamo a esplorare, sempre in modo generale ovviamente, perché poi di fronte hai una persona particolare, che cosa si può fare nella prima seduta in un modo un po' più specifico. Lo so, poco fa ho detto generale, poi ho detto un po' più specifico. Quello che intendevo dire è che sarà generale perché poi dovrai adattarlo sempre all'unicità di chi hai di fronte, ma sarà più specifico nel senso che al di là della fase del cambiamento in cui si trova, adesso vediamo alcune manovre specifiche che si utilizzano nella prima seduta. Una prima cosa che devi tenere in considerazione è che stiamo parlando di terapia breve centrata sulla soluzione, per la quale la prima seduta è critica, è importante e deve essere orientata ad andare a indagare le soluzioni. La prima seduta è importante non solo per la terapia centrata sulla soluzione, ma dovrebbe esserlo per tutti, perché rischia in senso positivo o in senso negativo di andare a instaurare tutta quella che sarà la trama delle sedute successive. Il fatto che la prima seduta sia talmente importante è una realtà veramente reale, perché tante persone ci hanno dedicato diversi libri, ovviamente per favore gli epistemologi e i filosofi ignorino la frase, è una realtà veramente reale, ci hanno dedicato tanti libri, da cui il mio benamato Michael Hoyt, che nel libro con Batman e Freeman ha dedicato un intero libro appunto alle prime sedute trattate da diversi terapeuti, si chiama proprio The First Session in Brief Therapy. Ma come devi impostare questa prima seduta? Innanzitutto una seduta Solution Focus considera che il cambiamento è sempre possibile. Ma non solo è sempre possibile, ma che capita di frequente. E perché questo è importante? Perché una prima cosa che farai nella prima seduta, dopo aver stretto la mano alla paziente, aver raccolto le informazioni generali e il perché è lì, sarà chiederle di che cosa è successo prima della terapia. Andando alla ricerca di quelli che sono degli elementi di cambiamento che sono comparsi precedentemente. Se ci pensi, la terapia è centrata sulla soluzione che cosa fa? Va a cercare che cosa funziona e che cosa ha funzionato. E questo quindi può essere già fatto andando a indagare quello che la persona ha fatto che ha funzionato prima della terapia con te. Per esempio, in questa indagine, una cosa importante sarà capire se la persona ha già fatto altre terapie, cosa che con questo tipo di disturbi non è infrequente. E dovrai andare a chiederle che cosa ha funzionato in queste terapie. Farlo non è per niente scontato, perché ti dà la possibilità, da una parte, di identificare qual è il modo di funzionare della persona, o meglio, che cos'è più funzionale per quella persona. E potrai poi spenderlo all'interno della seduta stessa. E dall'altro rendere anche la persona stessa più consapevole di che cosa funziona per lei e di che cosa ha fatto, di quali sono stati i suoi contributi, e quindi di cosa potrà continuare a fare. Quindi, se vogliamo proprio trovare una domanda, questa potrà essere che tipo di terapia hai fatto o di terapie hai fatto finora per cercare di affrontare il tuo disturbo alimentare. E una seconda domanda collegata a questa potrà essere è stato utile far quel tipo di trattamento? Sono stati utili quei trattamenti? E se sì, in che modo? Molte persone con disturbo alimentare ti diranno che le terapie precedenti sono state utili, magari non del tutto, altrimenti avrebbero risolto probabilmente, ma almeno in parte. E allora andrai a indagare che cosa gli è stato d'aiuto, proprio per capire insieme a lei che cosa si potrebbe continuare a fare o riprendere a fare, o magari modificare ma iniziare a fare, e che cosa lei ha fatto e che è stato di aiuto. Questo, peraltro, ti servirà a fare una cosa che forse avrai già capito se hai visto i video precedenti, cioè andare a riconoscere alla persona il suo hard work, il fatto che ha messo molto impegno e duro lavoro finora per cercare di affrontare il suo disturbo alimentare e supportarla nei suoi sforzi. Ti ricorderai, infatti, che questo tipo di persone spesso hanno una visione tutto o niente, quindi spesso i piccoli sforzi non li riconoscono, invece questo è un lavoro che deve essere graduale, breve, non significa che deve essere necessariamente veloce. Potrebbe metterci poche sedute, ma magari dispiegate in un po' di tempo, ma soprattutto nel momento in cui si vanno a riconoscere i piccoli effetti si può produrre poi l'effetto domino, il grande effetto. Però in questo dobbiamo aiutare la nostra paziente, andare a indagare che cosa ha fatto precedentemente, nelle sedute precedenti, e riconoscere l'impegno e il duro lavoro, complimentarsi con lei su questo, è un ottimo modo per poterlo fare. In tutto questo, mi raccomando, devi focalizzarti su quello che per loro è stato utile. Se una cosa per loro non è stata utile, o se l'è stata per te, ma non per la persona che hai di fronte, non devi andare a confutare questa loro opinione. Se una cosa per lei è stata utile, bene, prendila, sottolineala, complimentati per il duro lavoro che ho fatto. Ma se una cosa non è stata utile, anche se tu pensi il contrario, non andare a confutare questa loro credenza, questa loro realtà, questa loro percezione. Questo, di nuovo, è importante, ed è una visione legata al fatto di mettere al centro la persona. È come quando qualcuno ti arriva e ti dice, ma questo libro non mi è piaciuto, e tu invece ritieni che è un libro ottimo, fondamentale, che aiuta nella propria carriera, nella propria vita, eccetera. Però stai dimenticando che, secondo il tuo punto di vista, secondo il tuo punto di vita, il tuo modo di vivere le cose, magari non funziona allo stesso modo per quella persona. Inoltre, come detto, molte di queste pazienti, soprattutto se sono nella fase di pre-contemplazione, ma ancora di più nella fase di contemplazione, di cui ho parlato nei precedenti video, spesso pensano che per risolvere il problema devono parlare tanto del problema, devono andare a cercare le cause, o deve capitare qualcosa là fuori. Inoltre, tu hai visto probabilmente tutti i video con le varie fasi discritte in modo discreto, ma spesso in realtà la vita non è così discreta, quindi puoi trovarti una persona che si trova nella fase di azione, riconosce di avere un problema, che vuole fare qualcosa per risolverlo, però ha ancora degli elementi della fase di contemplazione, per dire, ancora ha l'idea che magari deve succedere qualcosa lì fuori di importante per anche solo facilitare il cambiamento, oppure deve scoprire le cause. Il fatto di andare a investigare quali sono stati i piccoli successi ottenuti precedentemente aiuta a modellare questa visione, non necessariamente con lo scopo di cambiarla, tu non devi cambiare forzatamente questa visione, ma con lo scopo quantomeno di aiutare la persona stessa a vedere che anche il suo duro lavoro, il suo impegno sulle piccole cose è di aiuto. A questo punto la paziente è arrivata, ha indagato un po' i cambiamenti preseduta, su quello che è capitato fino a quel momento che è stato di utile, ti sei appuntata magari un pochino di cose che pensi che potranno essere di aiuto anche per poterle ripetere, e arriva la fantomatica domanda del miracolo, che poi non è fantomatica, è una domanda molto potente, molto utile e cardine della terapia breve centrata sulla soluzione. Anche qui se vuoi approfondire degli aspetti della terapia breve centrata sulla soluzione, puoi andare a leggerti il nostro libro Terapia breve centrata sulla soluzione, principi e pratiche, scritto da me e da Federico Piccirilli, in realtà con i contributi di tanti altri autori, tra cui molti vecchi del campo, Chris Iveson, Alice Day McDonald e altri ancora. Ovviamente però permettimi di dirti che dentro c'è anche buona parte del team dell'Italian Center for Single Session Therapy, che ha dato probabilmente i contributi più corposi e rilevanti al libro stesso. La Miracle Question fa tante cose, non sto qui a rispiegartela, tanto ci sono il libro, ci sono altri video in cui ne parlo, quindi non faccio un altro lungo video soltanto per parlare di questo. Nella Miracle Question però fai diverse cose importanti, che è importante sottolineare con questo tipo di pazienti. Una cosa è il fatto di creare un'aspettativa positiva che il cambiamento possa avvenire e che è costituito da tanti piccoli elementi che si vanno a unire tutti insieme. Una domanda che mi fanno spesso molti miei studenti è ma di che cosa parlo nella domanda del miracolo? Considera che noi facciamo un workshop in terapia breve centrata sulla soluzione, anche aperto agli esterni, di un weekend, poi c'è un altro anche aperto agli esterni che è l'avanzato di un altro weekend e poi ce n'è un terzo di perfezionamento non aperto agli esterni ma soltanto ai nostri studenti dove parliamo appunto di questo modello e poi ovviamente nella scuola ci sono diversi altri weekend in cui lo approfondiamo. Quindi andare a fare un risulto è un po' difficile, però c'è qualcosa di utile che ti posso dire rispetto a questa domanda. Infatti nella Miracle Question tu potresti parlare di qualunque cosa nel momento in cui chiede alla persona di descrivere il suo futuro desiderato. Ma diciamo che nel momento in cui nella Miracle Question tanto le domande quanto in particolare le risposte della paziente vanno a identificare un proseguimento delle eccezioni positive che tu hai notato con le domande relative ai cambiamenti pre-terapia ti dirà questo che state andando nella direzione giusta. Ora stiamo andando per scontato che stiamo parlando di una paziente che ti sta parlando del suo disturbo alimentare e che lo riconosce come problematico quindi probabilmente non è nella fase di pre-contemplazione forse è in quella di contemplazione ma dipende. Però sicuramente è una Miracle Question in questo caso che ha incluso il disturbo alimentare. Attenzione, in realtà potrebbe anche essere una fase di pre-contemplazione e parlarti quindi di altro nel miracolo perché magari l'hai fatta diventare una cliente su... vi siete trovati in un rapporto di clientela su un altro problema magari dice che vuole migliorare le relazioni con i genitori o il proprio umore e però all'interno ci mette anche il disturbo alimentare. Quale che sia la fase del cambiamento non approfondisco quello che dico perché su questo ti vedi i video precedenti quale che sia la fase di cambiamento in cui si trova se prima ti ha parlato del disturbo alimentare e avete indagato qualche eccezione positiva che lei stessa ti ha tirato fuori se tira fuori queste eccezioni come proseguimento all'interno del suo futuro quindi ciò che è successo di positivo nel passato continua nel futuro si amplifica nel futuro ok, questo è un segno che siete sulla rotta giusta ed è una strada che puoi seguire. Ma se la paziente non ti dice nulla durante il miracolo rispetto al suo disturbo alimentare cosa fai? Beh, molto semplicemente inizi tu a chiederle qualcosa devi stare molto attenta perché devi evitare di far sì che una persona che ti dice che non ha un disturbo alimentare senta che il terapeuta non le crede e vuole a tutti i costi lavorare su quel disturbo alimentare in quel caso ti trovi di fronte a una persona nella fase di pre-contemplazione e devi evitare di fare qualcosa che incrini la vostra relazione terapeutica però qualche domanda è lecita se è venuto fuori il problema all'interno della fase iniziale della terapia prima della domanda del miracolo e ovviamente devi vedere come risponde la persona potrebbe darti delle domande approfondite che ha un feedback sul fatto che potete continuare a parlare almeno un po' di quell'argomento oppure potrebbe darti nessuna risposta dire no non cambierà niente io non ho un disturbo alimentare o qualcosa di simile e allora è un segno che forse per ora è meglio concentrarti su ciò che la rende cliente oppure potrebbe darti dei feedback ambivalenti nel caso si un po' ne voglio parlare ma attento a quello che mi chiedi perché potrebbe diventare appunto una rottura della nostra alleanza cioè una rottura di quello che in particolare stiamo facendo qua e dell'obiettivo che ci siamo dati quindi qualche domanda la puoi fare tu nello specifico ma attento a come la persona reagisce tutto questo lo fai utilizzando le parole del cliente fino ad arrivare a negoziare un obiettivo l'obiettivo lo potresti negoziare anche prima se leggi il nostro libro sulla terapia centrata sulla soluzione si tratta della fase di definizione delle migliori aspettative su cui poi puoi appunto aprire la domanda del miracolo ma se questo non ti è stato possibile potrai utilizzare la domanda del miracolo per poi arrivare a negoziare l'obiettivo questo è importante attenzione quando fai la domanda del miracolo o prima che la fai è importante che ci sia un momento in cui tu alla persona dici ok allora se lavoriamo su questo pensi che stiamo andando sulla strada giusta negozialo chiudi l'accordo perché vi darà la rotta e se ci saranno dei deragliamenti durante la seduta o durante la terapia potrai ritornare a quello ma sai noi abbiamo detto che dobbiamo lavorare su questa cosa è ancora questo l'obiettivo o lo stiamo cambiando stiamo andando su qualcos'altro questo è molto importante anche proprio quando la persona non riconosce non pensa di avere un disturbo alimentare però magari lavorate insieme su qualcos'altro il mio umore irritabile o il mio senso di angoscio le mie relazioni disfunzionali può darsi che a un certo punto la persona ti porta fuori il disturbo alimentare e tu lì dovrai riportarla all'accordo dicendo qualcosa come sai tu mi stai dicendo che volevi lavorare sul tuo amore irritabile però ora è vero che mi stai parlando del problema che hai con l'alimentazione è qualcosa su cui vuoi lavorare vuoi che esploriamo anche questa cosa avere poi un secondo accordo su questo sentirsi dire sì forse è qualcosa di cui vorrei parlare è il segno che potete procedere con più tranquillità sul disturbo alimentare ora io non so se voi sentite l'ecicale in sottofondo purtroppo il telecomando per spegnerle si è rotto quindi faremo tutto il resto del video con questo magnifico sottofondo della natura ho dovuto chiudere perché sta diventando incredibile quindi ora c'è meno luce quindi cambierò un po' il video ragazzi il bello della diretta non siamo in diretta però avete capito sempre durante la domanda del miracolo che se vuoi un limite temporale potrebbe durare una trentina di minuti super giù vai a indagare quali sono le eccezioni cioè vai a indagare se durante la descrizione del miracolo quindi di ciò che sarà emergono degli elementi di ciò che è già stato cioè se alcune delle cose che la paziente dice che si presenteranno nel futuro desiderato già si sono presentate a volte lo puoi fare con domande dirette però il rischio qui è che magari la persona possa sentire una forzatura che la stai forzando verso quella direzione a volte invece semplicemente emerge in maniera esplicita un po' più implicita da ciò che dice la paziente e quella è una cosa che tu puoi annotarti mentalmente o che puoi esplorare meglio per esempio facendo domande del tipo ma quindi mi stai dicendo che questo è già successo è già capitato che potresti segnartelo per poi andarlo a indagare dopo o esplorarlo un pochino lì per lì ma le eccezioni naturalmente vengono esplorate anche forse soprattutto al di fuori della domanda del miracolo per esempio nel nostro libro spieghiamo come farlo utilizzando la tecnica della scala dove in estrema sintesi puoi una persona su una scala dove 10 è il giorno del miracolo e 0 è l'esatto opposto e chiedi alla persona di dire dove si posiziona e poi le chiedi perché si posiziona su quel gradino e non più in basso questo è un utile modo per andare a esplorare le eccezioni non approfondisco la tecnica della scala perché la trovate nel libro terapia breve centrata sulla soluzione principi e pratiche e anche in tanti video che ho fatto al riguardo un escamotage che puoi utilizzare se la persona racconta di non aver notato nessuna eccezione sono a 4 ma non noto eccezioni positive è quella di forzare un pochissimo la mano cioè di chiedere alla persona di immaginare di essere a un giorno vicino a quello del miracolo quindi di trovarsi a qualche gradino più in su per andare a notare che cosa vedrebbe di differente questo spesso aiuta la persona poi a indagare a tirar fuori a farle venire in mente delle eccezioni che effettivamente si sono manifestate una cosa importante di Schaser nel suo bellissimo libro Clues che dovrei avere qualche parte lo vedo qui io lo vedo ma voi non lo vedete perché è lì in basso aveva indagato aveva definito due gramme di tipologie di eccezioni quelle spontanee e quelle deliberate quelle spontanee sono spontanee o casuali sono quelle che capitano apparentemente secondo il punto di vista del cliente senza un suo impegno senza che lui faccia nulla o che possa fare nulla quelle deliberate sono quelle su cui lui sente di avere un minimo di controllo di poter fare qualche cosa spesso è utile questa distinzione perché quando ti trovi di fronte al secondo tipo di eccezioni puoi chiedere alla persona di continuare a metterle in atto quando ti trovi di fronte al primo tipo di eccezioni puoi chiedere alla persona di continuare a notare quando queste avvengono e di rifletterci su il problema con le pazienti con disturbo alimentare è che tendono a minimizzare entrambi i tipi di eccezioni ragazzi sappiate che io ho deciso tra il morire di caldo e il fare questo video con le finestre chiuse senza che le cicale ci distruggano i timpani quindi se mi vedrete squagliare in stile personaggio cattivo di Roger Rabbit sapete perché perché è importante sapere che questo tipo di paziente tende a minimizzare le eccezioni perché tu non devi enfatizzarle non devi sottolinearle altrimenti la paziente penserà che tu non la prendi sul serio che non le credi o addirittura che stai cercando di manipolarla allora cosa abbiamo visto fin qui la paziente è arrivata avete indagato cosa sono stati i passi fatti per arrivare fin qui alla ricerca magari di qualche eccezione positiva precedente hai usato la medical question hai esplorato il futuro desiderato prima o alla fine di questa avete stabilito l'accordo poi magari usando la scala sei andata a cercare le eccezioni che già ci sono sul momento senza forzare troppo la mano e che cosa fai ora sali di un gradino sali di un gradino significa che come nella linearità più ortodossa della terapia centrata sulla soluzione chiedi alla persona di notare che cosa succederà quando sarà un gradino più in su di chiedersi che cosa noterà o che cosa farà che le farà dire di essere salita sul gradino attenzione questo è importante non devi chiederle cosa deve fare per salire di un gradino ma che cosa farà che cosa noterà quando sarà su un gradino più in su questo è un passaggio molto importante della solution che non vado a spiegarti approfonditamente qui perché trovi anche questo sul libro o in altri video però la sostanza è quella di proiettare la persona a un pizzico più su ad aprire delle possibilità ma un passetto alla volta e vedi come è fondamentale anche qui sottolineare per tutto il tempo anche di questa fase il duro lavoro e complimentarsi per i piccoli successi ottenuti anche sottolineare l'importanza dei piccoli passi di qualcosa di piccolo da fare di nuovo attenta a come lo fai perché non devi convincere la persona ma solo farle notare che i piccoli passi sono importanti e a questo punto arriviamo alla fine dove la cosa che puoi fare è stabilire degli obiettivi piccoli e realistici da conseguire fuori dalla seduta lo scopo è quello di far sì che anche fuori dalla seduta la persona possa fare qualche cosa per andare incontro alle varie tappe che ha delineato durante la terapia cioè andare un pochino come un piccolo pacman per esempio non so come mi possa essere venuto in mente a mangiare tutte le piccole cose poi con il disturbo alimentare vabbè fantastico rifacciamola nel senso che l'obiettivo sarà quello di portare la persona a raggiungere dei piccoli risultati a fare delle piccole azioni al di fuori della terapia nelle settimane o nella settimana che vi separerà da questo primo incontro a quello successivo ricorda che gli obiettivi devono essere piccoli ma ricorda anche che spesso potresti essere tu a voler stabilire quali sono gli obiettivi perché pensi di sapere che cosa è importante e lo sai perché tu sei un'esperta di quel tipo di disturbi però tu non sei esperta della vita della persona che hai di fronte e se tu con questo tipo di paziente in particolare vai a determinare gli obiettivi rischi di creare una resistenza rischi di far sentire alla persona che tu sei l'esperto che sa dirle che cosa è giusto che lei faccia e spesso con questo tipo di persone non funziona invece quello che devi fare è uno scoprire che cosa vuole la paziente e due negoziare degli obiettivi salienti per lei negoziare significa soprattutto concordare cioè chiedere alla persona se quello può essere un obiettivo che per lei va bene e se non va bene cercare di capire con lei chiedere a lei che cosa invece potrebbe esserlo e poi farglielo descrivere ed è importante che la paziente questo tipo di paziente percepisca che ogni obiettivo è frutto di duro lavoro chiederà impegno glielo di proprio sottolineare sarà difficile fare questa cosa non è una cosa semplice questo perché è una persona spesso tutto o niente e quindi di fronte a dei piccoli successi deve rendersi conto che come effettivamente è richiedono molto lavoro e di nuovo quando un obiettivo sarà raggiunto nelle sedute successive continua a sottolineare il fatto che è frutto di duro lavoro e quando non viene raggiunto beh sottolineare che è molto duro come lavoro e si deve impegnare di più senza squalificarla ma questo aiuterà la persona a rendersi conto che effettivamente servono dei grandi sforzi e a non percepirsi come un fallimento che è la cosa più tipica pensa alle diete quando cediamo che è una cosa tipicissima probabilmente di tutte le diete e mandiamo tutto a monte perché diciamo no vedi non sono capace invece nel momento in cui qualcuno ci dice beh non è che non sei capace è chiaramente duro fare una dieta quindi devi mettere in conto il fatto che ci sono degli arretramenti e ti devi continuare a impegnare nel andare avanti mettendo in conto che ci saranno appunto degli inciampi delle buche in cui potrai inciampare allora percepiremo l'idea che effettivamente non siamo dei fallimenti ma stiamo andando nella direzione giusta è stato un video ovviamente lungo io qua in registrazione non so manco a quanto siamo arrivati probabilmente è quasi un'oretta che ci sto su ovviamente verrà tagliato e reso più corto però se sei arrivata fino a qui grazie per la fiducia lasciami dei tuoi feedback spero che questa serie su come trattare i disturbi alimentari tramite la terapia breve centrata sulla soluzione ti stia piacendo ovviamente continua a seguirmi iscriviti cliccando sulla campanellina credo che sia un'icona con l'iscrizione per seguire gli aggiornamenti mi aiuta a crescere con il canale se hai domande falle pure qui sotto nei commenti seguimi anche su instagram ho finito tutti i messaggi promozionali ci vediamo al prossimo video grazie